Ehi, nothing you can say, because it's gonna drain what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Io potrei dire che non ho un cazzo Però Desert Eagle potrebbe offendersi Ehi, il cecco? Ci sei? Niente, lo faccio così Con che rabbia ti sono arrivato, zio Ha 30 di vita quello che stavo mirando Detto il cecco, pum, morto, colpo solo d'assalto Ehi, ci sono peperoncini qui Ehi, also due peperoni, niente, allora prendo il posto della... L'URP Hai preso l'altro cecchino, sì Eh sì Con un tipo sopra il campeggio che è sceso adesso E gli sta andando sopra anche lui Ho preso, ho preso quell'altro Ehi, ho preso, ho presoelt Fermo, fermo, c'è chi navo sotto, c'è chi navo dietro, eh? No no vabbè, si diverò. Ben, non cazzo quello che spende. Qui, qui, 15 band Però non trovo le cazzo di munizioni Io sono senza praticamente Sono a 70 munizioni E se sono le leggere? Ok Vado a vedere se ci pushano Beh direi di sì Costruiscimi l'unico muro che mi devi costruire Sono in due Non riesco a gestirli Ho le altre band, è vero? Sì Le vado a vedere con la posizione di legno qua Perché Un lanciapatate No Tiè l'altra è sopra lì e muore l'ho ingeggiato no no ma vabbè stava già mirando lui ma sono in zona? uno ancora sopra 27 danni ha subito quello lì guarda che si è coperto alla fine uno push è occhio no 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 minchia no 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 1 shot 1 eh io ho l'altro sopra di me anche l'altro dovrebbe 1 shot 1 eh mi ha fatto ciò è qua che mi fa ma non ho niente di cure bro che cavolo lancia patate cazzo sai che se ti costruisci il muro davanti non ti vede dove vai sotto bella non so perchè ho preso la mappa in mano quando c'ho avuto avanti e gli dò una pompata grazie per aver seguito il video se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao